Salve a tutti, oggi andremo ad eseguire la prima installazione di una TV LG Smart. Quando accendiamo la TV comparirà la schermata di scendere la lingua, in questo caso metteremo italiano, mettiamo il nostro paese Italia e andremo a creare un codice PIN. Questo codice PIN dobbiamo memorizzarlo o scrivercelo da qualche parte perché poi ci servirà anche per la sintonia o per qualsiasi altra funzione che ce lo richiede. Quindi ricordatevi di memorizzarlo. Ora andiamo nel menu sintonia, ci chiede appunto il nostro codice PIN che avevamo fatto. Andrò a mettere antenna oppure se ho anche satellite andrò a selezionare anche satellite. Antenna, faccio prossimo, avvio. Da qui parte la scansione dei nostri canali digitali terrestri. Nel caso in cui avesse avuto anche satellite, dopo aver fatto la sintonia del digitale terrestre, come vedete nel disegno c'è disegnata una parabola e da lì inizierebbe la scansione dei canali satellitali. Ricordatevi che in caso la TV può avere la scheda TV SAT, perché quasi tutte le TV LG ormai sono certificate TV SAT. Si va ad acquistare una cam con dentro una scheda TV SAT che è gratuita, e anche l'attivazione è gratuita, così posso vedere i miei canali in chiaro e anche quelli criptati. Ok, ha quasi finito la sintonia. Non ha trovato molti canali. Eccoci qua, arrivato. Ora vado a mettere RAI 1 HD, RAI 2 HD. Qui vado a scegliere su RAI 3 il Veneto, in questo caso che noi siamo in Veneto. e tutti i canali vengono messi in ordine. Ora posso guardare la mia TV tranquillamente. Questo è il nostro telecomando. Ricordatevi che puoi spostarvi freccia in su, freccia a destra, freccia a sinistra, freccia in giù, e poi gli si dà l'OK. Eccoci qua. Si vede tutto perfettamente. Grazie per aver visto questo video. Spero vi sia piaciuto, il che vi serva. E se potete iscrivetevi al canale, che fa sempre molto piacere.